3, 2, 1, via! Partita! La seconda edizione della collettiva Orgona Dona! Raffaele Avigliano, presidente della Triathlon Flipper di Ascoli Piceno, anche questa seconda edizione della Alfe Marathon qui a Tolentino è giunta al termine e tanti davvero gli iscritti. Sì, aspettavamo un numero maggiore rispetto all'anno scorso, così è stato, abbiamo superato i 700 presenze tra la gara di 10, la gara di 21 km e la camminata di 5. Sicuramente abbiamo fatto tesoro dell'esperienza fatta l'anno scorso, in comune accordo con l'amministrazione abbiamo rivisto il percorso per rendere meno disagio ai cittadini. Siamo soddisfatti della partecipazione, del supporto che ci ha dato l'amministrazione comunale e soprattutto del brand Arena che dà un valore aggiunto indiscutibile al nostro evento. In rappresentanza dell'Arena che ha contribuito fattivamente alla realizzazione di questa manifestazione è Giuseppe Musciacchio, una bella iniziativa che ha portato davvero tante persone a visitare questa città. È sempre bello essere qui, vedere questa manifestazione che cresce, che contribuisce anche a rivitalizzare il tessuto cittadino, il territorio. Noi come azienda, ovviamente l'abbiamo detto tante volte, cerchiamo di esserci, di partecipare e secondo me già correre tra Natale e Capodanno è da eroe, poi con questo freddo. Vincitore assoluto di questa Tolentino Alf Marathon 2019, Mohamed Aji. Che effetto ti fa essere il vincitore assoluto? Sono contento per la vittoria, io sono abituato sempre ai vincitori, diciamo sempre al podio, sbaglio poco in gara, ho fatto tante 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 maratona, veramente tutto il mondo e sono contento per la vittoria, sono contento veramente per essere qua. Mi è piaciuto il percorso, mi è piaciuto il paese e speriamo anche l'anno prossimo torno a fare in gran prestazione. Già ho fatto il record del percorso, già per me è già una cosa buona e speriamo per le altre maratone che all'estero vado in Francia, vado a Finlandia e speriamo faccio un gran maratone, veramente. Un applauso, grattissimo per lei, la vincitizia, Katia De Angelis, Grottini Team, 1-1-25-0-0. Prima classificata Katia De Angelis della Grottini, com'è andata questa gara oggi? Benissimo perché non me lo aspettavo, oggi la volevo fare perché l'ultima gara di categoria passo F50, quindi mi piaceva farla e vincerla magari e così ho fatto. Non pensavo. Come hai trovato il percorso scelto dagli organizzatori? Bello, è la prima volta che la faccio, però il percorso mi piace, è bello veramente.